Salve a tutti, oggi vi inizio a dire quali sono le prove inconfutabili in One Piece per considerare Sanji l'unico e vero vice capitano della ciurma di Rufy. Andiamo con ordine, oggi facciamo la parte 1 e seguitemi per non perdervi tutte le altre parti della verità. Sapevate che in tutto il manga di One Piece Rufy dice solo e soltanto a Sanji? Senza di te non diventerò mai il re dei pirati, una missione del capitano nel considerare Sanji un elemento fondamentale per raggiungere il One Piece e diventare il re dei pirati. Rufy non lo dirà a nessun altro in tutta quanta la storia. Questa però è solo la parte 1, ci sono ancora tantissimi indizi, io sono Delly Mello, il profeta di One Piece, indovino fatti e cose di One Piece da oltre 15 anni, con 16 anni in anticipo. E ho il canale Redazione Sottocultura su Youtube dove faccio live di approfondimento, ci sono tantissimi video. Alla prossima, iscrivetevi! Grazie! 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 Grazie!